Sindaco, purtroppo il Comune di Penna Sant'Andrea non è stato esentato dal dissesso idrogeologico riscatenato su tutto il territorio provinciale dall'ultima ondata di maltempo di inizio marzo. Qual è la situazione, quante frane ci sono e cosa si può fare? La situazione purtroppo sul territorio di Penna Sant'Andrea è gravissima. Le frane sono 27, un numero quasi assurdo. Le strade chiuse purtroppo sono ancora 3 perché non siamo riusciti e non riusciremo a breve a ripristinare il collegamento con la contrada Trinità è chiusa la strada che collega la contrada Castelcerreto alla contrada Capsano e in più è addirittura sprofondata la strada in contrada Mortola e è impossibile il collegamento con la statale 81 che avveniva nella zona nord del paese. Frane quindi che isolano queste contrade? No, per fortuna ci è rimasta isolata soltanto Castelcerreto però siamo riusciti a ripristinare il primo tratto con la somma urgenza mentre le altre hanno delle vie di fuga anche se ci sono quattro abitazioni che sono comunque seconde abitazioni che sono ancora isolate. Intanto sono partiti i lavori sotto contrada Trinità una situazione, quella del comune di Penna Sant'Andrea che tradotta in numeri parla di danni per oltre 3 milioni di euro cui il comune non può far fronte perché non ha risorse in bilancio. Noi abbiamo richiesto il riconoscimento dello stato di calamità naturale so che anche la regione Abruzzo ha fatto questo e dalle informazioni che ho io spero che entro fine mese venga riconosciuto questo stato di calamità naturale avremo magari la possibilità di risistemare qualche pezzo di strada perché il dissesto è importante non solo sulla viabilità ma non c'è pezzo di terreno sul nostro territorio che non si è morso. Grazie a tutti.